Niente, non ho visto niente, ho anche cercato di capire che cosa dicevano, ma non ho capito niente. Eppure parlavano, parlavano, parlavano tanto, sembrava che dicessero cose importantissime, ma non dicevano niente. Avevo la casa, la cucina, il salotto, la camera da letto, il bagno, che erano tutti pieni di parole, parole, parole. Anche i fiori di plastica qualche volta sembrava che diventassero veri, ma poi arrivava la pubblicità e tutto tornava esattamente come era prima. Allora io mi sono comperato uno schiacciamosche e ora tutte le volte che accendo la televisione, già e già e già e già, schiaccio tutte quelle parole che cercano di arrampicarsi nei muri di casa. Questa era una O. A volte mi capitano quelle parole grasse come decretone, manovrone, stangatona, ma questa era solo una O.